Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del nuovo The North Face Trail Lite da 65 litri, uno zaino bello grosso pensato per trekking di più giorni, di cui adesso vediamo insieme pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito da qualche caratteristica fornita da The North Face per questo Trail Lite 65. Innanzitutto troviamo due litraggi, 65 e 50 litri, ed entrambi sono disponibili nelle taglie SM ed LXL. Nel particolare questo qua da 65 litri nella taglia SM pesa 1,780 kg. E infine tutti sono realizzati con un nylon ripstop 210D con trattamento idrorepellente. E adesso come abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito dallo schienale di questo Trail Lite 65. Come potete vedere abbiamo uno schienale che va a contatto con la schiena, naturalmente perché questo zaino è pensato a portare alti carichi. Uno zaino molto confortevole, ha una schiuma abbastanza comoda, uno zaino che comunque a livello di sudorazione diciamo che è nella norma, non eccelle particolarmente. È uno zaino che nei giorni più caldi tende un po' a far sudare e nei giorni di media temperatura svolge bene il proprio lavoro. Quindi senza infamia e senza lode, ecco, diciamo abbastanza nella norma. E sempre per quanto riguarda lo schienale abbiamo anche la possibilità di regolarlo in altezza in base alla lunghezza del nostro busto. Perfetto perché avendo sia le doppie taglie sia la regolazione in altezza possiamo veramente adattarlo benissimo alla nostra schiena. La parte che più mi è piaciuta però di questo schienale è la fascia lombare. Imbottita molto bene con una schiuma a doppia densità che lavora veramente molto bene per quanto riguarda l'imbottitura. Traspirabilità è come lo schienale quindi fa il suo. Ma la cosa che più mi ha sorpreso, che più mi è piaciuta è lo scarico del peso. In questo caso con questo zaino possiamo portare veramente alti carichi, possiamo passare anche 20 kg senza tanti problemi. Quindi davvero da questo punto di vista mi è piaciuto davvero tanto. È uno zaino con cui si possono portare dei carichi veramente molto elevati. Nella parte anteriore poi abbiamo la classica chiusura con la clip da andare a tirare per serrare per bene la fascia lombare. E sulla fascia lombare troviamo due tasche, una destra e una sinistra, abbastanza generose. Diciamo che all'interno un telefono ci sta senza nessun problema e ci stanno dentro anche gli altri materiali. Quindi due tasche veramente ben costruite. Per quanto riguarda invece gli spallacci, anche loro sono fatti con la stessa schiuma, quindi diciamo che lavorano bene. Mi piace che abbiano una sezione un pochino ampia per scaricare bene il peso anche sulle spalle. Non si muovono, svolgono un ottimo lavoro. Abbiamo una piccola feature, ovvero sulla parte di destra, sullo spallaggio di destra. Abbiamo una piccola taschina in rete dove andare a riporre degli occhiali, una barretta, quello che vogliamo vedere a portata di mano. E infine abbiamo la solita chiusura pettorale, classica, col fischietto, nulla da dire, molto classica. Continuiamo girando lo zaino, iniziando a vedere la parte anteriore partendo da uno dei due lati. Vi pronuncio che i lati sono simmetrici, quindi ne vediamo solamente uno. Per quanto riguarda la parte laterale, abbiamo nella parte inferiore una tasca rete, è veramente molto, molto grossa dove andare a riporre una borraccia. Ma una borraccia anche grossa, c'è un borraccio nella due litri, ci sta senza tanti problemi. Oppure, volendo, possiamo riporre all'interno anche un cavalletto fotografico e poi agganciarlo con le clip che troviamo nella parte superiore. Visto che ve ne accennavo, abbiamo questi due clip, una messa nella parte bassa in cui richiudere un pochino anche quello che c'è all'interno della tasca rete e una nella parte alta per poter richiudere sia lo zaino sia per poter andare a fissare oggetti lunghi che andiamo a inserire. Come vi dicevo, un cavalletto fotografico. Una dotazione abbastanza classica, nulla da dire. Riusciamo a prendere e riporre la borraccia da soli, quindi ottimo, abbastanza classico, ovviamente molto simile a tanti altri zaini. Continuando nella parte anteriore, qui cosa troviamo? Innanzitutto nella parte bassa abbiamo due fibie che ci consentono sia di stringere lo zaino sia di poter portare all'esterno tenda o materassino. Se nella parte anteriore possiamo portare dei bastoncini, anche disponendogli uno a destra e uno a sinistra. Troviamo delle piccole desicene dove andare ad appendere ulteriore materiale, ma sicuramente la cosa che salta subito all'occhio è questa enorme tasca dove andare a riporre nella parte esterna eventuali oggetti come possono essere delle giacche, dei kit di primo soccorso. Comunque una tasca esterna elastica, veramente molto funzionale e molto grande, comunque il materiale con cui è fatta è decisamente elastico. Per quanto riguarda poi lo scomparto interno, abbiamo la possibilità di accedere a quelle cose che mettiamo all'interno solamente dalla parte inferiore, la cosiddetta classica tasca da sacco a pelo, e dalla parte superiore. Non abbiamo delle ulteriori aperture, e secondo me questa è un pochino una mancanza su uno zaino da 65 litri. In compenso però all'interno riusciamo a separare le due camere con una piccola parte di tessuto messa nella parte bassa, che ci permette comunque di poter organizzare un po' il carico. Però diciamo che se avessi trovato una piccola cerniera per andare a prendere il materiale nella parte inferiore, quella mi sarebbe piaciuta veramente tanto. Per quanto riguarda poi l'apertura superiore, questa è molto classica, con un cordino, la si apre, la si chiude, è presente anche una fettuccia passante, che ci permette di poter portare volendo o una corda o una giacca nella parte esterna. E per quanto riguarda il cappuccio, innanzitutto è removibile. Poi troviamo due grosse tasche, una nella parte superiore, una nella parte inferiore, dove andare a riporre gli oggetti. Comunque devo dire che sono molto molto grosse, e già il cappuccio ha una capacità non indifferente. Infine, a livello di comparto acqua, come vi dicevo, possiamo portare nella parte esterna due borracce anche molto molto grosse. All'interno ci sta tranquillamente una sacca idrica, anche da due litri, proprio possibile far uscire la prunga sulla parte anteriore. Non è presente però all'interno un rain cover, dovremo comprarlo a parte. A livello di materiale devo dire che è uno zaino fatto molto bene. Nella parte inferiore è fatto con un poliestere 600D abbastanza resistente, per quando lo strusciamo lo poggiamo sulle rocce, e tutto il resto è fatto con un nylon 200D con trattamento idronepellente. Quindi devo dire che a livello di materiali The North Face è andato abbastanza sul sicuro su dei materiali usati da tanti altri zaini che lavorano sempre bene. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo The North Face Trail Lite a 65 litri. Innanzitutto il prezzo, l'haino si trova sui 220-225 euro. Diciamo che è uno zaino simile a tanti altri. Non è sicuramente quel tipo di zaino che siamo abituati da The North Face, in cui puntano tutto su tecnologie super innovative, con dei prezzi anche molto alti. Ma in questo caso The North Face ha voluto andare su tecnologie abbastanza conosciute, materiali abbastanza noti. Diciamo che ha voluto andare abbastanza sul classico. Il che secondo me non è una così cattiva idea, perché quando si va sul classico, in assoluto i prezzi, comunque sono abbastanza contenuti, perché parliamo di un zaino a 200 euro, 65 litri, ci sta. Per il resto poi sono materiali che si conoscono, quindi si conosce bene anche la loro durabilità. E anche in questo caso, come vi dicevo, questo nylon è un materiale molto durevole. Dunque alla fine è uno zaino molto simile a tanti altri, quindi se vi siete trovati bene con altri zaini, sì, probabilmente vi troverete bene anche con questo. E detto ciao ragazzi, una speranza se sei stato esattamente sostitivo anche per questa recensione. Vi ringrazio per la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!